VILLA FRANCESCHI Ci troviamo all'esterno di Villa Franceschi. Villa Franceschi è stata edificata in un primo tempo nel 1910, dopodiché è stata restaurata definitivamente nel 1919 in un delizioso stile Liberty. Come potete notare, tutti i banconi informativi sono a normativa per quanto riguarda un ragazzo in carrozzina. L'ascensore è completamente a norma, porta su fino al primo piano, la tastiera è anche in braille. Come vedete il lavandino è a norma, ha un'altezza di 80 cm e una profondità di 70 cm. La padella per la sua particolare forma circolare. Ci troviamo all'interno della Domus del Chirurgo, dove grazie a questo tipo di percorso l'accessibilità è totale. Grazie a tutti i nostri amici. A presto i nostri amici. Grazie a tutti i nostri amici. Come avete potuto constatare, l'accessibilità al sistema museale della provincia di Rimini è totale. Il progetto CLEAR vi invita dunque a visitare il nostro territorio.